ciao buonasera allora come avrei visto sul sul titolo volevo parlare dell'abbondanza perché questo mese nella inner yoga academy stiamo parlando proprio di questo dell'abbondanza visto che ogni mese abbiamo un tema diverso ieri sera abbiamo fatto una masterclass come facciamo ogni mese e una sessione domande risposte e ieri sera c'è stato un ospite speciale e che ha parlato dell'abbondanza e volevo condividere con te un pochino di questa masterclass e nella masterclass abbiamo anche parlato di come come creare questa frequenza perché poi uno dice sì e che cosa devo fare per creare questa questa abbondanza, no? Perché sì, nella teoria è tutto facile, sì, ha senso, però poi che cosa devo fare nella vita di tutti i giorni? E nella masterclass abbiamo proprio parlato di quello, è stato molto intenso e interessante e abbiamo parlato di degli esercizi specifici proprio per come andare a ricreare quella frequenza. Per esempio, un esempio, ovviamente è una masterclass molto lunga di un'ora che potete fare. Un esempio che volevo condividere con voi è proprio l'importanza della routine e di utilizzare delle cose da fare durante la giornata che, visto che per tutta la giornata noi portiamo l'attenzione all'esterno, dobbiamo portare l'attenzione verso l'interno. Insomma, quello che diciamo sempre, troviamo delle cose durante la giornata che ci riallineano a una frequenza verso l'interno, a una frequenza che poi ci può portare alla gioia, alla gratitudine, all'abbondanza. E quindi volevo condividere con te questo perché... che commenti metterò il link se ti vuoi andare a vedere tutta la masterclass intera della Inner Yoga Academy che c'è stata ieri sera, cioè sia in versione video ma ti puoi anche scaricare l'audio o ascoltartelo solamente in audio. E che altro? Ah, e poi ci saranno ovviamente tante sorprese per i prossimi mesi. Oltre a esserci ovviamente nella scuola già tante lezioni e tanti corsi e pacchetti diversi, sto preparando un bellissimo corso perché il mese prossimo sarà il mese sulla sua IMS, la non violenza, e sto creando un corso di yoga basato sulla non violenza e sulla gentilezza. Sono molto emozionata perché è un corso meraviglioso che condividerò con voi nel mese di dicembre nella Inner Yoga Academy. Quindi spero che questo possa essere stato di aiuto. Se ci sono domande scrivetemele qui sotto e ci vediamo prestissimo. Ciao!